Catoio numero 50, che offerte abbiamo? Allora, noi proponiamo pasta di casa con sugo di polpetta, costato di maiale e grassa in magra. E per secondo, appunto, polpette al sugo, costata di maiale e grassa in magra. Che risposta stiamo avendo, ecco, in queste serate? Questa è l'ultima, la quarta serata, domenica. Che bilancio facciamo? No, buono, buono. Ieri abbiamo avuto molte persone e anche questa sera abbiamo persone qui che stanno mangiando. E abbiamo avuto una buona soddisfazione. Quindi si può dire che questa edizione, questa tredicesima edizione della ripartenza, ecco, dopo due anni è andata bene. Sì, sì, direi di sì. Quindi lo ritornerà ai Catoio in festa benestare? Rifarà questa esperienza? Sì, sicuramente sì, sono tanti anni che partecipiamo e torneremo a venire. Grazie mille, buon lavoro e buona serata. Grazie, buonasera.